Ciao a tutti, nel video di oggi vi presento questo motivo traforato, un motivo semplicissimo da realizzare e quindi diciamo che anche le principianti potrebbero cimentarsi a farlo con l'unica accortezza di stare attento ovviamente a non saltare i gettati al ritorno e quindi nei ferri di ritorno. Allora sul davanti si presenta in questo modo mentre sul dietro è così. Allora il motivo è un multiplo di 8 maglie quindi monteremo sul ferro 8 8 8 8 per quante volte vogliamo ovviamente che sia grande il motivo. A queste 8 maglie aggiungiamo poi le 4 di vivagno e quindi 2 per ogni lato che andranno a formare il bordino. Per quanto riguarda invece l'altezza il motivo si realizza in 12 ferri. È un motivo che possiamo ovviamente utilizzare per svariati progetti soprattutto primaverili ed estivi perché ovviamente è traforato. Niente vieta ovviamente di utilizzarlo anche d'inverno. Lo possiamo utilizzare per delle stole, per delle sciarpe, per delle magliettine, per dei maglioncini, per dei cardigan estivi oppure per delle copertine. Insomma più o meno si presta a svariati progetti. Andiamo adesso a vedere come si realizza. Ho montato sul ferro un totale di 44 maglie perché il motivo è formato da 8 quindi ho fatto 5 motivi quindi 5 per 8 più le 4 di vivagno che andranno ovviamente a formare il mio bordino. Partiamo dal primo ferro e andiamo a fare insieme un solo motivo. Vivagno. Vi lascio qui sopra il link che vi riporta come fare il vivagno e partiamo. Due maglie insieme a diritto, un gettato, un diritto, un gettato, una diminuzione semplice. Sposto sul ferro di destra una maglia senza lavorare, lavoro la seconda maglia a diritto e a cavallo la prima sopra la seconda. Tre rovesci. Uno, due e tre. Andiamo a ripetere questo motivo. Terzo ferro. Vivagno. quattro diritti. Uno, due, tre, quattro. Un gettato, una diminuzione semplice. Due rovesci. Uno e due. Andiamo a ripetere questo motivo. Quarto ferro. Vivagno. Due diritti. Sei rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Ripetiamo questo motivo. Quinto ferro. Vivagno. Cinque diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque. un gettato. Una diminuzione semplice. Un rovescio. Ripetiamo questo motivo. Sesto ferro. Vivagno. un diritto. Un diritto. Sette rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Andiamo a ripetere questo motivo. Settimo ferro. Vivagno. Tre rovesci. Uno, due, tre. Due maglie insieme a diritto. Un gettato. Un diritto. un gettato. Una diminuzione semplice. Andiamo a ripetere questo motivo. Ottavo ferro. Vivagno. Cinque rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque. tre diritti. Uno, due, tre. Andiamo a ripetere questo motivo. Nono ferro. Vivagno. Due rovesci. Due maglie insieme a diritto. Un gettato. Quattro diritti. Uno, due, tre. tre, quattro. Ripetiamo questo motivo. decimo ferro. Vivagno. decimo ferro. Vivagno. sei rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Due diritti. Uno e due. Ripetiamo questo motivo. motivo ferro. Undicesimo ferro. Vivagno. Un rovescio. Due maglie insieme a diritto. Un gettato. Cinque diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ripetiamo questo motivo. motivo ferro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Un diritto. Ripetiamo questo motivo. Allora, come possiamo vedere il motivo è praticamente terminato. Per ripeterlo non dobbiamo far altro che ripetere i ferri dal numero uno al numero dodici. Il video e il motivo sono terminati e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!